Una dichiarazione sull'azione degli studenti contro la guerra in Siria. La posizione del rettore uscente? Gli studenti fanno bene amore festante, ma è una cosa che ritengo sagrosante. I poveri curti ci hanno difensi dall'ISIS. Mi sembra veramente un atteggiamento, soprattutto da parte delle americane, assolutamente incomprensibile, ma il mondo d'oggi è fatto così. La gratitudine umana mai non esiste da te. Infatti il detto è, fai il bene e scordatelo, perché tanto la gente non so di rotamare. La mele sono rammaricato moltissimo da questo problema dei culti. Io penso che un povero meriterebbe uno stato non proprio, però la politica internazionale è quel che è. E come istituzione cosa si sente di dire all'Italia quanto riguarda i rapporti con la Turchia? L'Italia qualcosa sta facendo. La politica internazionale non sta a noi giudicata. Deve avere facciate un po' più forti, ma non deve essere l'Italia, deve essere l'Europa. Però il discorso è molto complicato, mi sapevo. Ci sono gli emigrati di mezzo, quindi... Ok.